Buon coloravirus a tutti anche oggi. Oggi è mercoledì ed è giornata di indovinelli. Avete giocato agli indovinelli? Avete videochiamato? Amici, amiche, vicini, nonni, zii, parenti, ugini? Hanno indovinato? Ma allora siete proprio dei bravissimi attori, complimenti! Bene, siete pronti anche per l'indovinello di Luigi. Come ogni mercoledì ci dà la soluzione dell'indovinello della settimana scorsa e ci lancia una nuova sfida. Ascoltiamo cosa ci racconta Luigi. Allora, avete provato? Piange senza occhi e volla senza alli. Chi è? Chi è? Eh sì! La nuvola! Bravi a tutti! Adesso e oggi vediamo, partiamo dove, partiamo dove? Ah sì! Una stella che non brilla mai. Chi è? Cosa dite? Non mi sembra così facile, eh? Io ci ho dovuto pensare un po' prima di capire che cos'era, ma mercoledì prossimo Luigi ci darà la soluzione. e ora vi aspetto venerdì con il nuovo Coloravirus. Buon Coloravirus a tutti! Ciao!